Matrimoni, guerre ed economia al tempo di Napoleone ed Elisa. Sono i grandi temi al centro della decima edizione delle conversazioni napoleoniche, appuntamento estivo che da nove edizioni caratterizza l'agosto culturale lucchese. L'evento si svolge nell'ambito del progetto da Parigi a Lucca, il gusto di vivere al tempo di Napoleone ed Elisa, ideato da Roberta Martinelli con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Fondazione di Livorno. Quello che inizia è un percorso che ci avvicinerà al bicentenario dell'arrivo di Maria Luisa di Borbone a Lucca che venne nel dicembre del 1817, quindi la prima delle conversazioni è dedicata a questo personaggio, che è a Lucca, è un personaggio abbastanza sconosciuto per quanto riguarda la vita privata fino al 1817. Si continua poi martedì 23 con Peter Hicks della Fondation Napoleon di Parigi che racconterà i disegni e le trame economiche e politiche di Napoleone, primo console alle prese con le casse vuote dello Stato. E poi mercoledì 24 agosto Pier Dario Marzi che tornerà sul Napoleone generale e sulle sue guerre attraverso l'analisi di alcuni spezzoni di pellicole cinematografiche note e meno note.